24 marzo la primavera è arrivata davvero fuori dalla finestra del mio laboratorio il grande castagno è interamente coperto di grosse gemme vischiose e appiccicaticce alcune delle quali si vanno aprendo in piccoli ventagli verdi passeggiando lungo i viottoli si avverte l'operare fecondo e silenzioso delle forze della natura la terra bagnata sprigiona un delizioso profumo di fertilità i germogli verdi fanno capolino ovunque i ramoscelli sono turgidi di linfa e l'aria inglese umida e pesante e intrisa di un vago sentore resinoso gemme sulle siepi e sotto di esse agnelli ovunque è in atto la grande opera riproduttiva e quel che vedo all'esterno lo sento dentro di me anche noi abbiamo la nostra primavera quando le arteriole si dilatano la linfa accelera il suo corso le ghiandole si danno un grande affare a mondare e filtrare ogni anno la natura rimette a punto l'intera macchina in questo preciso istante sento il mio sangue in fermento e potrei danzare come un moscerino nella tiepida luce del sole che entra a fiotti dalla finestra ma se lo facessi charles sedler si precipiterebbe quassù per vedere che sta succedendo e poi non devo dimenticare di essere il professor gilroy un anziano professore può permettersi la spontaneità ma quando la buona sorte ha segnato una delle principali cattedre universitarie a un uomo di 34 anni questi deve sforzarsi di interpretare costantemente il proprio ruolo che tipo quel wilson se solo riuscissi ad applicarmi alla fisiologia con lo stesso entusiasmo che lui mette nella psicologia diventerei quantomeno un nuovello claude bernard tutta la sua vita la sua anima e le sue energie sono volte a un unico scopo cade addormentato mentre confronta i risultati della giornata appena trascorsa e si sveglia programmando le ricerche per quella avvenire eppure al di fuori della ristretta cerchia che segue i suoi studi non ne ricava un gran credito la fisiologia è una scienza riconosciuta mi basta aggiungere un solo mattone all'edificio perché tutti lo vedano e lo applaudano ma wilson sta preparando le fondamenta per una scienza del futuro il suo è un lavoro sotterraneo invisibile lui però tira avanti senza lamentarsi tenendo rapporti epistolari con un centinaio di mezzi maniaci nella speranza di incontrare una voce attendibile vagliando un centinaio di bugie nell'eventualità di imbattersi in un briciolo di verità raffrontando vecchi libri divorandone di nuovi conducendo esperimenti sforzandosi di accendere anche negli altri l'interesse ardente che lo consuma penso a lui con meraviglia e ammirazione assolute eppure quando mi chiede di collaborare alle sue ricerche sono costretto a rispondergli che nel loro stato attuale risultano poco allettanti per un uomo dedito alla scienza esatta se fosse in grado di mostrarmi qualcosa di concreto e oggettivo potrei essere tentato di affrontare la questione sotto l'aspetto fisiologico ma finché metà dei suoi soggetti inclineranno alla ciarlataneria e l'altra metà all'isteria noi fisiologi dovremmo accontentarci del corpo e lasciare la mente ai posteri senza dubbio sono un materialista uno di primo ordine dice agata io le rispondo che questo è un eccellente motivo per abbreviare il nostro fidanzamento visto il mio impellente bisogno della sua spiritualità eppure posso professarmi un curioso esempio degli effetti dell'educazione sul carattere poiché sempre che non mi inganni sono per natura un individuo profondamente psichico era un ragazzo irrequieto e sensibile un sognatore un sonnambulo impressionabile e intuitivo i miei capelli neri gli occhi scuri il volto scarno e olivastro le dita affusolate sono tratti indicativi del mio vero temperamento e inducono gli studiosi come wilson a reclamarmi tra loro ma il mio cervello è intriso di conoscenza esatta sono abituato a confrontarmi solo con i fatti e le loro dimostrazioni la congettura e l'immaginazione non trovano spazio nel mio schema mentale mostratemi qualcosa che possa osservare al microscopio sezionare col bisturi pesare sulla bilancia e dedicherò l'intera vita alla sua indagine ma chiedermi di studiare sentimenti impressioni suggestioni significa propormi qualcosa disgradevole e addirittura avvilente qualunque distacco dalla ragione pura mi disturba come un cattivo odore o una dissonanza musicale questo è più che sufficiente a spiegare la vaga riluttanza con cui mi reco dal professor wilson stasera eppure sento di non potermi sottrarre all'invito senza risultare assolutamente villano e ovviamente visto che ci saranno anche la signora marden e agata non lo farei nemmeno se potessi ma avrei preferito incontrarle in qualunque altro posto so bene che wilson non esiterebbe a trascinarmi in quella sua nebulosa pseudoscienza il suo entusiasmo lo rende totalmente sordo a qualunque consiglio rimostranza solo una sonora litigata lo convincerebbe della mia avversione verso l'intera faccenda senz'altro avrà qualche nuovo mesmerita chiaroveggente medium o ciarlatano da esibirci perché anche i suoi ricevimenti sono vincolati alla sua passione beh in ogni modo ad agata piacerà a lei interessano queste cose una donna si sa è attratta da tutto ciò che è vago misterioso indefinito ore 22 50 immagino che questa mia abitudine di tenere un diario sia il risultato della mentalità scientifica di cui scrivevo stamattina amo registrare a caldo le mie impressioni almeno una volta al giorno mi sforzo di definire la mia situazione mentale oltre a essere un utile esercizio di autoanalisi credo abbia anche effetti corroboranti sul carattere e il mio devo proprio ammetterlo necessita di tutto il consolidamento possibile dopo tutto temo di aver conservato molto del mio temperamento nevrotico e di essere ben lontano da quella precisione fredda o imperturbabile che caratterizza Mardoch o Prat Aldein altrimenti perché la buffonata a cui ho assistito stasera avrebbe dovuto turbarmi al punto da farmi sentire ancora sottosopra la mia unica consolazione è che né Wilson né la signorina penclosa e neppure Agatha possono essersi accorti di una simile debolezza e cosa c'era di tanto sconvolgente nulla o una sciocchezza tale che apparirà ridicola le Marden sono giunte da Wilson prima di me in effetti io sono stato uno degli ultimi e al mio arrivo ho trovato la stanza gremita avevo a malapena rivolto la parola alla signora Marden e ad Agatha incantevole in bianco e rosa con spighe scintillanti tra i capelli che Wilson mi stava già tirando per la manica vuoi qualcosa di concreto Gilroy mi ha detto trascinandomi in un angolo ho un fenomeno caro mio un fenomeno la cosa mi avrebbe colpito se non l'avessi già sentita altre volte il suo temperamento sanguigno trasforma ogni lucciola in una stella la buona fede non è in discussione questa volta ha aggiunto forse in risposta a un barlume divertito nei miei occhi mia moglie la conosce da molti anni sai sono entrambe di trinidad la signorina penclosa è in inghilterra solo da un mese o due e non ha conoscenze al di fuori della cerchia universitaria ma ci ha rivelato fatti sufficienti ad avvalorare la chiaroveggenza su basi totalmente scientifiche te lo assicuro non esiste nulla di simile né tra i dilettanti né tra i professionisti vieni te la presento non amo nessuno di questi ciarlatani dell'occulto meno che mai i dilettanti chi si esibisce a pagamento può essere platealmente sbugiardato nel momento stesso in cui si scopre il suo trucco lui è lì apposta per ingannarti e tu sei lì apposta per smascherarlo ma che fare con l'amica della moglie del tuo ospite accendere la luce all'improvviso e scoprirla mentre tortura un bengio di nascosto oppure gettarle della cocciniglia sull'abito da sera mentre si aggira furtiva con la sua boccetta di fosforo e le sue insulsaggini soprannaturali verrebbe fuori una scenata e tu passeresti per un mostro non c'è altra scelta o un mostro o un credulone non ero certo di ottimo umore mentre seguivo wilson dalla signora difficile immaginare qualcosa di più lontano dalla mia concezione di abitante delle indie occidentali era una creatura piccola e fragile ben oltre la quarantina direi dal volto pallido e affilato e dai capelli di un castano chiarissimo aveva un aspetto insignificante e un atteggiamento schivo in mezzo a dieci donne senz'altro la si sarebbe notata per ultima gli occhi costituivano forse il suo tratto più straordinario nonché devo dire il meno gradevole erano grigli grigi grigi con una sfumatura di verde e la loro espressione mi è parsa decisamente furtiva mi domando se furtiva sia la parola giusta o se forse avrei dovuto dire crudele a ben pensarci felina avrebbe reso meglio l'idea alzandosi ha dimostrato con penosa evidenza ciò che avevo già intuito vedendo una gruccia appoggiata alla parete aveva una gamba storpia non mi è sfuggito come udendo il mio nome mentre ci presentavano la signorina penclosa abbia lanciato un'occhiata ad agata evidentemente wilson aveva parlato in quel momento ho pensato che senz'altro grazie ai suoi poteri occulti di lì a poco avrebbe accennato al mio fidanzamento con una giovane con le spighe tra i capelli mi domandavo quante altre cose wilson le avesse raccontato di me il professor gilroy è terribilmente scettico spero che saprà convertirlo signorina penclosa il professor gilroy ha tutte le ragioni per essere scettico ha risposto fissandomi intensamente se non ha mai assistito a nulla di convincente avrei giurato che lei stesso fosse un ottimo soggetto per cosa se posso chiederlo dissi beh per l'ipnotismo per esempio so per esperienza che i mesmeristi cercano i propri soggetti fra le menti instabili ho la sensazione che i loro risultati siano viziati dal fatto di avere a che fare con organismi anormali quale di queste signore secondo lei dispone di un organismo normale vorrei che scegliesse quella che le pare più equilibrata diciamo la ragazza in rosa e bianco deve essere la signorina agatha marden certo con lei giudicherò rilevante qualunque risultato non ho avuto modo di provare quanto sia ricettiva ovviamente alcune persone rispondono più rapidamente di altre posso domandarle fino a che punto arriva il suo scetticismo lei ammetterà immagino il sonno ipnotico e il potere della suggestione io non ammetto nulla signorina penclosa povera me credevo che la scienza fosse andata oltre ovviamente non so nulla dell'aspetto scientifico so soltanto cosa sono in grado di fare vede la ragazza in rosso per esempio là vicino al vaso giapponese farò in modo che venga qui da noi nel parlare si è chinata in avanti lasciando cadere il ventaglio sul pavimento a quel punto la ragazza si è voltata di scatto ed è venuta dritta verso di noi con un'espressione interrogativa come se qualcuno l'avesse chiamata che ne pensi gilroy ha esclamato wilson in una sorta di estasi non ho osato dirgli la verità a mio parere si trattava della più sfrontata indecente impostura a cui avessi mai assistito l'accordo fra le due e il segnale erano persino troppo evidenti il professor gilroy non è soddisfatto ha detto lei sbirciandomi con quei suoi occhietti strani il merito del mio esperimento va al mio povero ventaglio bene proviamo con qualcos'altro signorina marden le dispiacerebbe se la ipnotizzassi oh ne sarei felice ha esclamato agata ormai l'intera compagnia si era riunita in cerchio attorno a noi gli uomini in sparato e le donne scollate alcuni intimiditi altri critici in una situazione a metà fra una cerimonia religiosa e lo spettacolo di un prestigiatore al centro era stata spinta una poltrona di velluto rosso e agata vi si è adagiata con volto acceso e un po tremante per l'emozione lo capivo dalla vibrazione delle spighe fra i capelli la signorina penclosa si è alzata e si è messa davanti a lei appoggiata alla sua gruccia a quel punto la donna ha subito un cambiamento non appariva più piccola o insignificante era ringiovanita di vent'anni aveva gli occhi scintillanti le guance olivastre accese da un tocco di colore e la sua intera figura sembrava dilatata proprio come quel ragazzo indolente dallo sguardo tuso che tutto d'un tratto ho visto diventare energico e vitale solo per avergli assegnato un compito del quale si sentiva padrone dopo aver guardato agata con un'espressione che ho detestato fin nel profondo la stessa che un'imperatrice romana avrebbe potuto rivolgere a una schiava in ginocchio ha alzato le braccia con un gesto rapido e autorevole per poi farle scorrere lentamente davanti a lei ho osservato agata attentamente ai primi tre passaggi appariva semplicemente divertita al quarto ho notato una lieve velatura degli occhi accompagnata dalla dilatazione delle pupille al sesto un momentaneo irrigidimento al settimo le palpebre hanno cominciato ad abbassarsi al decimo gli occhi erano chiusi e il respiro più lento e profondo del normale pur sforzandomi di conservare la mia imperturbabilità scientifica davanti a quella scena ero preda di un'agitazione sciocca e ingiustificata spero di essere riuscito a celarla ma mi sentivo come un bambino al buio non avrei mai creduto di essere ancora soggetto a tali debolezze è in trance ha detto la signorina penclosa sta dormendo ho esclamato la svegli allora ho cominciato a strattonarla per un braccio e a gridarle nelle orecchie ma da quel che vedevo avrebbe anche potuto essere morta il suo corpo era lì sulla poltrona di velluto gli organi funzionavano il cuore e i polmoni ma la sua anima era scivolata via in qualche luogo oltre la nostra portata dove era finita quale potere l'aveva spodestata ero confuso e sconcertato questo per quanto riguarda il sonno ipnotico ha detto la signorina penclosa quanto alla suggestione la signorina marden farà immancabilmente qualunque cosa io le chieda di fare che sia adesso o dopo il risveglio dalla trance vuole una dimostrazione naturalmente ho risposto lavra in quel momento l'ombra di un sorriso le ha attraversato il volto come se le fosse balenata un'idea divertente chinandosi ha bisbigliato qualcosa nelle orecchie del suo soggetto con aria seria agata prima totalmente sorda le mie parole la ascoltava annuendo sveglia ha gridato con un colpo secco della gruccia sul pavimento gli occhi si sono aperti perdendo lentamente la velatura e l'anima si è riaffacciata dopo quella strana eclisse ce ne siamo andati presto agata non aveva risentito affatto del suo strano viaggio ma io ero nervoso e turbato incapace di ascoltare o replicare alla fiumana di commenti sciorinati da wilson a mio uso e consumo mentre le auguravo la buonanotte la signorina penclosa mi ha fatto scivolare in mano un foglietto di carta la prego di perdonarmi se uso questi espedienti per vincere il suo scetticismo apra questo biglietto domani mattina alle 10 è un piccolo esperimento privato non riesco a immaginare che cosa intenda ma il biglietto è qui e verrà aperto secondo le sue indicazioni ho mal di testa e ho scritto a sufficienza per stanotte credo proprio che domani ciò che appare così incomprensibile assumerà tutto un altro aspetto non rinuncerò alle mie convinzioni senza lottare 25 marzo sono sbigottito confuso devo chiaramente rivedere la mia opinione in merito a questa faccenda prima però voglio annotare l'accaduto terminata la colazione stavo esaminando alcuni diagrammi utili a illustrare la mia lezione quando la governante è entrata a comunicarmi che agata era nel mio studio e desiderava vedermi immediatamente alzando gli occhi all'orologio ho notato con sorpresa che erano soltanto le nove e mezzo quando sono entrato nella stanza lei era in piedi di fronte a me sul tappeto del focolare c'era qualcosa di raggelante nel suo atteggiamento capace di bloccarmi le parole in gola sebbene portasse la veletta abbassata per metà ho visto che era pallida con un'espressione impacciata austin sono venuta a dirti che il nostro fidanzamento è rotto a quelle parole ho vacillato letteralmente credo perché mi sono scoperto a cercare il sostegno della libreria ma ma ho balbettato così all'improvviso agata sì austin sono venuta a dirti che il nostro fidanzamento è rotto ma dovrei pur darmi una spiegazione ho esclamato non è da te agata dimmi cosa ho fatto di tanto sciagurato da offenderti è finita austin ma perché ti stai certo ingannando agata forse ti hanno riferito qualche falsità sul mio conto o forse hai frainteso qualcosa che ti ho detto dimmi soltanto di cosa si tratta e una parola potrà sistemare tutto quanto dobbiamo considerare tutto finito ma ieri sera mi hai salutato senza alcun accenno di dissapore cosa ha potuto provocare nel frattempo un cambiamento simile deve essere accaduto qualcosa ieri sera forse hai ripensato la mia condotta e qualcosa non ti è piaciuto e per l'ipnotismo mi incolpi per aver permesso a quella donna di esercitare il proprio potere su di te sai bene che al minimo accenno sarei intervenuto è inutile austin è tutto finito parlava in tono freddo e misurato con un atteggiamento stranamente rigido e formale sembrava assolutamente determinata a non lasciarsi andare ad alcun tipo di discussione o spiegazione mentre io tremante per l'agitazione mi sono voltato dall'altra parte in imbarazzo all'idea di mostrare una tale mancanza di autocontrollo ma tu sai bene cosa significa per me ho esclamato è il crollo di ogni speranza la rovina della mia vita non vorrei certo infliggermi una simile punizione senza prima aver ascoltato le mie ragioni devi dirmi cos'è accaduto considera che io non ti tratterei mai così per nessuna ragione al mondo per l'amor del cielo agata dimmi cosa ho fatto mi è passata accanto senza una parola e ha aperto la porta è inutile austin devi considerare rotto il nostro fidanzamento un istante dopo se n'era andata e prima che mi fossi ripreso a sufficienza per seguirla ho udito la porta principale chiudersi alle sue spalle mi sono precipitato in camera mia a cambiarmi la giacca con l'intenzione di correre dalla signora marden per informarmi sulla possibile causa della mia disgrazia ero talmente agitato da riuscire a malapena ad allacciarmi gli stivali non dimenticherò mai quei dieci terribili minuti mi ero appena infilato il soprabito quando l'orologio sopra la mensola del camino ha battuto le dieci le dieci immediatamente il pensiero è andato al biglietto della signorina penclosa era appoggiato sul tavolo di fronte a me e l'ho aperto con foga scritto a matita in una calligrafia particolarmente spigolosa diceva mio caro professor gilroy la prego di scusare la natura personale della prova che le sto sottoponendo e il dottor wilson ha accennato per caso alla relazione fra lei e il mio soggetto di questa sera così mi è venuto in mente che se avessi indotto la signorina a passare da lei domattina alle nove e mezzo per sospendere il vostro fidanzamento per circa mezz'ora lei si sarebbe certamente convinto la scienza è talmente rigorosa che è difficile fornire una prova soddisfacente ma sono sicura che la sua fidanzata non compirebbe mai un simile gesto di sua spontanea volontà dimentichi qualunque cosa le abbia detto poiché la signorina non ha niente a che fare con tutto questo e senz'altro non ricorderà nulla le scrivo questo biglietto per alleviare la sua angoscia e per chiederle perdono per la temporanea infelicità che la mia suggestione deve averle causato distintamente helen penclosa dopo aver letto il biglietto ero davvero troppo sollevato per sentirmi in collera certo si era presa una notevole libertà trattandosi di una signora che avevo visto una volta sola dopo tutto però l'avevo sfidata col mio scetticismo come ha detto lei stessa doveva essere stato alquanto difficile escogitare un esperimento che potesse soddisfarmi e ce l'aveva fatta non vi erano dubbi al riguardo per me la suggestione ipnotica era definitivamente comprovata guadagnandosi da quel momento in poi il proprio posto fra le realtà dell'esistenza sul fatto che agata la mente femminile più equilibrata che conosco fosse stata ridotta a una condizione di automa non sembravano esserci dubbi una persona l'aveva manovrata a distanza come un macchinista avrebbe pilotato un siluro brennan dalla costa era subentrata una seconda anima per così dire che dopo aver scacciato la sua si era appropriata dei centri nervosi dicendo per mezz'ora questi li manovro io e agata doveva essere stata incosciente sia nel tragitto di andata sia in quello di ritorno ma era in grado di muoversi sicura per le strade in uno stato simile ho indossato il cappello e sono corso fuori per verificare che fosse tutto a posto sì era a casa dopo essere stato accompagnato in salotto l'ho trovata seduta con un libro in grembo una visita mattiniera austin mi ha detto con un sorriso la tua lo è stata ancora di più le ho risposto sembrava perplessa cosa intendi non sei uscita oggi no certo che no agata le ho detto in tono serio ti dispiace raccontarmi esattamente cosa hai fatto stamattina la mia aria severa le ha strappato una risata è appena assunto il tuo piglio professionale austin ecco cosa succede a fidanzarsi con un uomo di scienza comunque te lo dirò sebbene non riesca a immaginare per quale ragione tu lo voglia sapere mi sono alzata alle otto ho fatto colazione alle otto e mezzo sono venuta in questa stanza alle 9 e 10 e ho cominciato a leggere le memorie di madame de ramusà dopo qualche minuto ho fatto alla signora francese il pessimo complimento di addormentarmi sulle sue pagine e invece a lei signore quello lusinghiero di sognarla sono sveglia solo da qualche minuto e ti sei ritrovata nello stesso posto di prima perché in quale altro posto avrei potuto trovarmi ti dispiace dirmi esattamente che cosa hai sognato agata non si tratta di semplice curiosità ho avuto solo la vaga impressione di sognarti non ricordo nulla di preciso se oggi non sei uscita agata come mai i tuoi stivali sono impolverati il suo volto ha assunto un'espressione afflitta sul serio austin non capisco che cosa ti stia succedendo stamattina verrebbe quasi da pensare che dubiti delle mie parole ovviamente se ho gli stivali impolverati ne avrò indossati un paio che la cameriera non ha pulito era assolutamente ovvio che non ne sapeva nulla dell'intera faccenda e dopo tutto ho preferito non metterla al corrente avrebbe potuto spaventarsi e non vedevo a cosa sarebbe servito dunque ho chiuso l'argomento e poco dopo l'ho salutata per andare a tenere la mia lezione ma sono davvero impressionato all'improvviso il mio orizzonte delle possibilità scientifiche si è ampliato a dismisura non mi stupiscono più l'energia e l'entusiasmo diabolici di wilson chi non lavorerebbe sodo avendo a propria disposizione un vasto campo inesplorato che diamine ho sperimentato l'esultanza davanti alla nuova forma del nucleolo o a una minima peculiarità della fibra muscolare striata vista con un ingrandimento di 300 diametri ma simili ricerche appaiono del tutto insignificanti in confronto a qualcosa che mira alle radici stesse della vita e alla natura dell'anima ho sempre considerato lo spirito come un prodotto della materia il cervello pensavo secerne la mente come il fegato labile ma come può essere quando vedo la mente operare a distanza e agire sulle corde della materia come un musicista sul proprio violino il corpo dunque non dà origine all'anima ma è piuttosto il rozzo strumento attraverso cui si manifesta lo spirito il molino non dà origine al vento ma ne rivela semplicemente l'esistenza seppur contrario in tutto e per tutto al mio modo di pensare ciò era innegabilmente possibile e meritevole d'indagine perché non dovrei occuparmene allora noto che alla data di ieri ho scritto se vedessi qualcosa di concreto e oggettivo potrei essere tentato di affrontarlo sotto l'aspetto fisiologico ebbene ho avuto la riprova terrò fede alla mia parola sono certo che l'indagine si rivelerà di estremo interesse qualche mio collega potrebbe non vederla di buon occhio poiché la scienza è ricca di assurdi pregiudizi ma se wilson ha il coraggio delle proprie convinzioni posso permettermi di fare lo stesso andrò da lui domani mattina da lui e dalla signorina penclosa se è capace di simili prove probabilmente saprà mostrarci molto di più 26 marzo come previsto wilson era entusiasta della mia conversione e la signorina penclosa ha accolto l'esito del suo esperimento con sobria soddisfazione è strano quanto sia scialba e taciturna fuori dall'esercizio del proprio potere le è sufficiente parlarne per guadagnare colore e vitalità sembra nutrire un particolare interesse nei miei confronti non posso fare a meno di notare come i suoi occhi seguono i miei movimenti nella stanza abbiamo avuto un'interessantissima conversazione sui suoi poteri tanto vale mettere per iscritto le sue osservazioni sebbene come ovvio non possano rivendicare alcun peso scientifico quello che lei considera ora è solo l'aspetto più marginale dell'argomento mi ha detto in risposta al mio stupore per l'eccezionale esempio di suggestione che mi aveva offerto quando è venuta da lei la signorina marden non era sotto la mia diretta influenza non la stavo nemmeno pensando quella mattina non ho fatto altro che regolare la sua mente come se fosse stata una sveglia pronta a suonare spontaneamente allora prestabilita se invece di dodici ore avessi stabilito sei mesi non sarebbe cambiato nulla e se l'avesse indotta ad assassinarmi lo avrebbe fatto inevitabilmente ma è un potere tremendo ho esclamato proprio così un potere tremendo è stata la sua solenne risposta e più imparerà conoscerlo più le apparirà tale posso chiederle cosa intendeva affermando che questa faccenda della suggestione non è che è un aspetto marginale quale ritiene essere l'essenziale preferirei non dirglielo lei comprende ho aggiunto stupito dalla fermezza di quella risposta che non glielo domando per curiosità ma nella speranza di trovare una spiegazione scientifica per i fatti che mi sta presentando francamente professor gilroy la scienza non mi interessa affatto né mi importa che essa sia o non sia in grado di classificare questi poteri ma io speravo allora è completamente diverso se ne fa una questione personale ha detto con il suo sorriso più affabile sarò ben lieta di spiegarle tutto ciò che desidera vediamo cosa mi stava chiedendo ah sì degli altri poteri il professor wilson rifiuta di crederci eppure sono assolutamente reali se il soggetto è adatto per esempio è possibile assumere il controllo totale su di esso e indurlo a fare qualsiasi cosa senza alcuna precedente suggestione senza che il soggetto lo sappia dipende se l'influsso esercitato fosse molto potente non ne sarebbe consapevole più della signorina marden quando è passata da lei facendole prendere un bello spavento oppure con un influsso più debole si renderebbe conto delle proprie azioni ma non potrebbe fare nulla per evitarle avrebbe quindi perso la sua forza di volontà sarebbe sopraffatta da una più forte ha mai esercitato questo potere diverse volte possiede una volontà così forte dunque beh non dipende solo da questo molte persone hanno volontà forti ma inscindibili da loro stesse si tratta di avere il dono di proiettare la propria volontà in un'altra persona rimpiazzando la sua mi rendo conto che tale facoltà varia in base alle mie energie e al mio stato di salute in pratica lei invia la sua anima nel corpo di un'altra persona beh può metterla così e che cosa succede al suo corpo cade semplicemente in uno stato letargico ma non è pericoloso per lei un po sì bisogna fare attenzione a non abbandonare completamente la presa sulla propria coscienza o potrebbe risultare difficile trovare la via del ritorno è necessario mantenere un contatto costante per così dire temo di esprimermi malissimo professor gilroy ma non saprei proprio come esporre la cosa in termini scientifici le sto solo offrendo la mia esperienza e le mie spiegazioni ebbene rileggendo tutto quanto con tranquillità mi meraviglio di me stesso è questo lost in gilroy che si è fatto strada grazie alla sua inflessibile razionalità e a un'assoluta dedizione ai fatti eccomi qui a riferire in tutta serietà le chiacchiere di una donna che racconta di saper proiettare la propria anima fuori dal corpo e di poter governare a distanza le azioni altrui mentre giace in uno stato letargico posso accettarlo certo che no dovrà fornirmi prove su prove prima che io cada su un solo punto tuttavia pur rimanendo uno scettico almeno ho smesso di essere uno sbeffeggiatore stasera abbiamo in programma una seduta e lei tenterà di produrre qualche effetto ipnotico su di me un eventuale successo costituirà un ottimo punto di partenza per la nostra indagine vada come vada non mi si potrà certo accusare di complicità in caso di insuccesso dovremo trovare un altro soggetto che sia insospettabile come la moglie di cesare wilson è completamente rifrattario ore 22 credo di essere sulla soglia di un'indagine epocale avere la facoltà di esaminare tali fenomeni dall'interno disponendo di un organismo reattivo e allo stesso tempo di un cervello in grado di comprendere e giudicare è senza dubbio un vantaggio unico sono certo che wilson darebbe cinque anni di vita per dimostrarsi ricettivo quanto lo sono io non era presente nessuno a parte wilson e sua moglie io ero seduto col capo reclinato all'indietro mentre la signorina penclosa in piedi di fronte a me un po spostata a sinistra compiva gli stessi gesti ampi e lenti usati con agata a ogni passaggio mi sentivo investire da una corrente d'aria tiepida mentre il mio corpo era scosso dalla testa ai piedi da un fremito caldo tenevo lo sguardo fisso sul volto della signorina penclosa ma poi i suoi lineamenti hanno cominciato a perdere definizione fino a svanire ero conscio soltanto di quegli occhi che mi guardavano dall'alto grigi profondi imperscrutabili e diventavano grandi sempre più grandi fino a trasformarsi improvvisamente in due laghi di montagna verso i quali sentivo di precipitare a una velocità tremenda ho provato un brivido e in quel momento un pensiero emerso da un livello mentale più profondo mi ha suggerito che tale sensazione corrispondeva alla rigidità che avevo osservato in agata nel frattempo i due laghi si erano fusi insieme e subito dopo l'impatto con la superficie dell'acqua ho cominciato a sprofondare con la testa che mi scoppiava e un ronzio nelle orecchie andavo giù giù sempre più giù e poi con uno slancio ho ripreso a salire fino a intravedere la luce che fluiva scintillante attraverso il verde dell'acqua ero quasi in superficie quando la parola sveglia mi ha risuonata in testa e sussultando mi sono ritrovato sulla poltrona con la signorina penclosa appoggiata alla gruccia e wilson tacquino alla mano che faceva capolino alle sue spalle l'esperimento non mi ha lasciato strascichi di pesantezza o di stanchezza al contrario sebbene sia trascorsa soltanto un'ora mi sento talmente sveglio da preferire il mio studio alla camera da letto vedo schiudersi davanti a noi un'ampia prospettiva di interessanti esperimenti e non sto più nella pelle all'idea di cominciare 27 marzo una giornata vuota la signorina penclosa va dai satton con wilson e sua moglie ho cominciato il magnetismo animale di binet e feret che acque ignote profonde sono queste effetti 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 e la causa un mistero assoluto è molto stimolante per l'immaginazione ma devo stare in guardia niente illazioni o deduzioni soltanto fatti concreti io so che la transipnotica è realtà so che la suggestione ipnotica è realtà so di essere sensibile a tale forza questo è il punto in cui mi trovo ho un enorme tacquino tutto nuovo da dedicare interamente al dettaglio scientifico lunga conversazione in serata con agata e la signora marden a proposito del matrimonio pensiamo che le vacanze estive l'inizio delle vacanze sarebbe il momento migliore per la cerimonia perché aspettare tollerò a fatica anche questi pochi mesi tuttavia come dice la signora marden ci sono moltissime cose da organizzare 28 marzo ipnotizzato un'altra volta dalla signorina penclosa esperienza simile alla prima salvo per il sopraggiungere più rapido dell'incoscienza si vede il tacquino a per temperatura della stanza pressione barometrica pulsazioni e respirazione rilevate dal professor wilson 29 marzo ipnotizzato un'altra volta dettagli nel tacquino a 30 marzo domenica giornata vuota sopporto a stento ogni interruzione dei nostri esperimenti per ora coprono soltanto la sfera dei sintomi fisici che si accompagnano ai tre livelli di incoscienza lieve totale ed estrema in seguito speriamo di passare ai fenomeni della suggestione della chiaroveggenza già sperimentati da alcuni professori su pazienti femminili a nancy e alla salpentrier la prova sarà ancora più convincente se messa in atto da una donna su un professore con un secondo professore come testimone e con me come soggetto poi io lo scettico il materialista se non altro ho dimostrato più attaccamento alla scienza che alla mia coerenza personale la ritrattazione è il più grande sacrificio a cui dobbiamo sottostare in nome della verità stasera il mio vicino charles sadler quel bel giovane assistente di anatomia è passato a restituirmi un volume degli archivi di wirchow che gli avevo prestato lo chiamo giovane ma di fatto ha un anno più di me giravoce gilroy che ti stai sottoponendo ad alcuni esperimenti con la signorina penclosa io ho ammesso che era vero ebbene ha aggiunto se fossi in te non andrei oltre senza dubbio mi giudicherei impertinente ciò nonostante mi sento in dovere di consigliarti di lasciarla perdere ovviamente gli ho chiesto perché la mia posizione non mi consente di entrare nei dettagli con la libertà che vorrei la signorina penclosa è amica di un amico e mi trovo in una situazione delicata posso solo dirti questo io stesso sono stato oggetto di alcuni suoi esperimenti che hanno lasciato un'impronta alquanto sgradevole nella mia mente non poteva certo aspettarsi che mi accontentassi di così poco ho tentato in ogni modo di strappargli qualcosa di più preciso ma in vano è possibile che sia geloso per il fatto di essere stato soppiantato oppure è uno di quegli uomini di scienza che si sentono offesi personalmente quando i fatti si scontrano con le loro opinioni preconcette non può credere sul serio che qualche sua vaga lagnanza mi spinga a rinunciare a una serie di esperimenti che si preannunciano così fecondi sembrava seccato dalla leggerezza con cui ho accolto i suoi foschi ammonimenti e ci siamo salutati con una punta di freddezza da ambo le parti 31 marzo ipnotizzato dalla signorina p primo aprile ipnotizzato dalla signorina p tacquino a 2 aprile ipnotizzato dalla signorina p tracciato sfigmografico rilevato dal professor wilson 3 aprile è probabile che questo ciclo di sedute ipnotiche risulti piuttosto spossante per l'organismo in generale agata dice che sono dimagrito e che ho le occhiaie avverto una certa irritabilità che non avevo mai notato prima sobalzo al minimo rumore per esempio e l'ottusità di uno studente mi esaspera invece di divertirmi agata vuole che smetta ma io le dico che qualsiasi ciclo di studio è stancante e che non si ottengono risultati senza pagare un prezzo quando assisterà allo scalpore che susciterà il mio prossimo saggio sulla relazione fra mente materia comprenderà che sarà avvalso un po di logorio nervoso non mi stupirei se mi fruttasse la nomina a membro della royal society ipnotizzato un'altra volta in serata l'effetto giunge più rapidamente ora e le visioni soggettive sono meno accentuate tengo reso conti dettagliati di ogni seduta wilson andrà in città per una settimana o dieci giorni ma noi non interromperemo gli esperimenti il cui valore dipende tanto dalle mie sensazioni quanto dalle sue osservazioni 4 aprile devo tenere gli occhi bene aperti nei nostri esperimenti si è insinuata una complicazione che non avevo valutato con la mia brama di fatti scientifici ho stupidamente trascurato i rapporti umani tra me e la signorina penclosa scrivo qui ciò che non sussurrerei ad anima viva la poveretta sembra aver sviluppato un affetto nei miei confronti non ne farei parola nemmeno nell'intimità del mio diario personale se la situazione non fosse degenerata al punto di non poterla ignorare negli ultimi tempi vale a dire nell'ultima settimana ci sono stati alcuni segnali che mi sono rifiutato di considerare la sua allegria al mio arrivo e lo sconforto per la mia partenza l'insistenza perché mi recassi più spesso da lei l'espressione dei suoi occhi il tono della voce ho provato a convincermi che non significassero nulla e che fossero imputabili soltanto al temperamento caloroso delle indie occidentali ieri sera però risvegliandomi dal sonno ipnotico ho inconsciamente involontariamente allungato una mano per afferrare la sua quando mi sono ripreso completamente eravamo seduti mano nella mano e lei mi stava fissando con un sorriso speranzoso e la cosa orribile è che mi sentivo costretto a dirle esattamente ciò che si aspettava che individuo infido e spregevole sarei stato quanto mio direi oggi se avessi ceduto alla tentazione del momento grazie al cielo però sono stato abbastanza forte da balzare in piedi e uscire in fretta dalla stanza temo di essere stato villano ma non potevo no non potevo fidarmi di me stesso un minuto di più io un gentiluomo un uomo d'onore fidanzato con una delle fanciulle più amabili d'inghilterra eppure in un istante di irrazionale passione stavo per dichiararmi a una donna che conosco appena è molto più vecchia di me ed è zoppa è orribile disgustoso ma l'impulso era talmente forte che se fosse rimasto un minuto di più in sua presenza avrei finito per compromettermi cosa è accaduto ho il compito di insegnare agli altri il funzionamento del nostro organismo ma io che cosa ne so qualche strato inferiore della mia natura è forse venuto improvvisamente a galla un brutale istinto primitivo che ad un tratto ha preso il sopravvento la sensazione era così travolgente che quasi potrei credere alle storie di ossessione spiritica ebbene questo episodio mi colloca in una posizione assolutamente spiacevole da un lato mi secca rinunciare a una serie di sperimenti a uno stadio tanto avanzato e che promettono risultati così brillanti dall'altro se questa poveretta ha sviluppato una passione per me ma no devo aver commesso un terribile errore alla sua età e così deforme è impossibile e inoltre sapeva di agata della mia posizione forse il suo era soltanto un sorriso divertito per come nel mio stato confusionale le ho preso la mano è stato il mio cervello semi ipnotizzato ad attribuirvi un significato reagendo poi con folle prontezza vorrei potermi convincere che è davvero così nel complesso forse la cosa migliore sarebbe rimandare il seguito degli esperimenti al ritorno di wilson comunque ho scritto un biglietto la signorina penclosa senza alludere a ieri sera ma comunicandole che a causa di una certa mole di lavoro mi vedo costretto a sospendere le nostre sedute per qualche giorno lei mi ha risposto in tono piuttosto formale che se dovessi cambiare idea la troverò a casa alla solita ora ore 22 o bella sono proprio un burattino sto imparando a conoscermi meglio ultimamente e la mia autostima precipita sempre più in basso non ero certo così debole prima alle quattro avrei sorriso se qualcuno mi avesse detto che stasera sarei andato dalla signora penclosa e invece alle otto ero davanti alla porta di wilson come al solito non so come sia accaduto la forza dell'abitudine suppongo forse come esiste una dipendenza da oppio ne esiste anche una da ipnotismo e io ne sono vittima so soltanto che mentre ero al lavoro nel mio studio ho cominciato a sentirmi sempre più inquieto mi agitavo mi tormentavo non riuscivo a concentrarmi sulle carte che avevo davanti alla fine poi quasi senza rendermene conto ho preso il cappello e mi sono precipitato al mio consueto appuntamento abbiamo trascorso una serata interessante la signora wilson è rimasta con noi per la maggior parte del tempo scongiurando l'imbarazzo che almeno uno di noi due avrebbe provato l'atteggiamento della signorina penclosa era sempre lo stesso e non sembrava affatto sorpresa della mia presenza nonostante il biglietto i suoi modi non hanno lasciato trapelare il minimo turbamento per gli eventi di ieri il che mi induce a sperare di avere ingigantito la faccenda 6 aprile sera no 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 non ho affatto ingigantito la questione ormai è inutile che mi sforzi di non vedere la passione che questa donna nutre per me è mostruoso ma è così ancora una volta stasera mi sono svegliato dalla transipnotica mano nella mano con lei vittima di quell'orribile sensazione che mi spinge a gettare al vento onore carriera tutto quanto per una creatura che come posso ben vedere quando non mi trovo sotto la sua influenza non possiede la seppur minima attrattiva ma quando le sono accanto la penso diversamente risveglia qualcosa dentro di me qualcosa di malvagio qualcosa cui preferirei non pensare inoltre paralizza la parte migliore della mia natura stimolando al contempo quella peggiore la sua vicinanza è decisamente nociva per me ieri sera è stato peggio che mai invece di fuggire sono rimasto seduto mano nella mano con lei a parlare di faccende molto private anche di agata fra le altre cose che cosa avevo in mente la signorina penclosa l'ha definita un tipo convenzionale e io le ho dato ragione l'ha anche denigrata un paio di volte senza che io protestassi che animale sono stato con tutta la debolezza che ho dimostrato sono ancora abbastanza forte da chiudere questa faccenda non succederà più ho buonsenso a sufficienza per ritirarmi se non sono in grado di combattere da questa domenica sera in avanti interromperò per sempre le sedute con la signorina penclosa per sempre addio agli sperimenti chiudiamola con le ricerche qualunque cosa pur di non dover affrontare questa mostruosa tentazione che mi trascina così in basso non ho detto nulla alla signorina penclosa mi terrò semplicemente alla larga e lei capirà senza bisogno di spiegazioni 7 aprile mi sono tenuto alla larga proprio come ho detto è un peccato sciupare una ricerca così interessante ma sarebbe ancora peggio sciupare la mia vita e quando sono con quella donna so di non potermi fidare di me stesso ore 23 che il cielo mi aiuti che mi succede sto impazzendo devo calmarmi ora e ragionare innanzitutto annoterò l'accaduto nei dettagli ho scritto le prime righe di oggi intorno alle 20 mi sentivo stranamente inquieto e turbato perciò sono uscito di casa per trascorrere la serata con agata e sua madre entrambe hanno osservato quanto fossi pallido e smunto alle 21 circa è arrivato il professor prataldain e abbiamo giocato a whist per quanto mi sforzassi di concentrarmi sulle carte il senso di inquietudine cresceva sempre di più fino a diventare insostenibile semplicemente non potevo stare seduto tranquillamente al tavolo infine nel bel mezzo di una mano ho gettato via le carte e con una specie di scusa incoerente riguardo a un certo appuntamento mi sono precipitato fuori dalla stanza ricordo vagamente come in un sogno di aver attraversato di corsa il corridoio di aver afferrato il cappello dall'attaccapanni e di aver sbattuto la porta alle mie spalle sempre come in un sogno mi pare di rivedere la doppia fila di lampioni inoltre a giudicare dai miei stivali inzaccherati devo aver corso in mezzo alla strada era tutto nebuloso strano innaturale a casa di wilson c'erano sua moglie e la signorina penclosa non ricordo nemmeno di cosa abbiamo parlato ma so che la signorina p agitava scherzosamente la punta della gruccia verso di me accusandomi di essere in ritardo e di aver perso interesse verso i nostri esperimenti non mi ha ipnotizzato ma sono rimasto là fino a ora sono abbastanza lucido ora e in grado di riflettere sull'accaduto è assurdo ricondurre tutto quanto a una semplice debolezza e alla forza dell'abitudine e la spiegazione che ho cercato di dare l'altra sera non basta più si tratta di qualcosa di più profondo e terribile diamine mi sono sentito trascinare via dal tavolo da gioco dei marden come se fossi stato preso al laccio non posso più celarlo a me stesso quella donna mi tiene in pugno sono nelle sue grinfie ma non devo perdere la testa devo ragionare e valutare il da farsi che sciocco sconsiderato sono stato l'entusiasmo per le mie ricerche mi ha spinto dritto nel baratro che pure era spanancato di fronte a me sì forse sì ed è anche una persona molto vicina a me charles sedler deve saperne qualcosa i suoi vaghi ammonimenti assumono un significato adesso se solo avessi ascoltato quando era il momento invece di contribuire con queste continue sedute a forgiare gli anelli della mia stessa catena ma oggi lo vedrò e mi scuserò per aver preso così alla leggera i suoi avvertimenti forse potrà consigliarmi ore 16 no non può gli ho parlato e al primo tentativo di accennare al mio indicibile segreto si è mostrato talmente sorpreso da impedirmi di continuare da quanto ho potuto capire più da allusioni e deduzioni che da vere e proprie affermazioni la sua esperienza si è limitata a qualche parola o a qualche sguardo di quelli che ho tollerato a mia volta il suo allontanamento dalla signorina penclosa è di per sé indicativo di come non fosse ancora finito nella sua rete se solo sapesse a cosa è scampato deve ringraziare la sua flemma sassone per questo mentre io bruno ecceltico ho i nervi ben stretti nella morsa di quella strega ne uscirò mai tornerò mai l'uomo che ero solo due settimane fa devo valutare il da farsi non posso abbandonare l'università a metà sessione se fossi libero avrei ben chiaro cosa fare partirei all'istante per la persia ma lei me lo consentirebbe il suo influsso non mi raggiungerebbe anche laggiù per riportarmi nel raggio d'azione della sua gruccia posso scoprire i limiti di quel diabolico potere soltanto sulla mia pelle lotterò 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 che altro posso fare so benissimo che verso le otto di stasera verrò colto dal desiderio impellente della sua compagnia da quella smania incontenibile come superarla che fare devo impedirmi di uscire dalla stanza mi chiuderò dentro e getterò la chiave dalla finestra ma come farò domani mattina non ha importanza questa catena va spezzata a ogni costo 9 aprile vittoria ce l'ho fatta a meraviglia ieri sera alle 7 ho cenato alla svelta mi sono chiuso in camera e ho gettato la chiave nel giardino ho scelto un romanzo allegro e sono rimasto a letto per tre ore nel tentativo di leggerlo mentre in realtà provavo un'ansia tremenda nell'attesa di avvertire quell'impulso da un momento all'altro non è accaduto niente del genere però e questa mattina al risveglio mi sono sentito libero da un incubo tremendo può darsi che la creatura fosse consapevole di ciò che avevo fatto e abbia giudicato inutile tentare di influenzarmi in ogni caso se l'ho battuta una volta posso rifarlo stamane è stato imbarazzante per via della chiave per fortuna di sotto c'era un aiutante del giardiniere e gli ho chiesto di lanciarmela su senz'altro deve aver pensato che mi fosse caduta sarei disposto a inchiodare porte e finestre e a farmi immobilizzare a letto da sei uomini grandi e grossi piuttosto di rassegnarmi a un simile tormento oggi pomeriggio ho ricevuto un biglietto in cui la signora marden mi chiedeva di passare a farle visita avevo già intenzione di passare ma non mi sarei aspettato di trovare brutte notizie pare che gli armstrong dai quali agata ha prospettive di eredità siano di ritorno da adelaide a bordo dell'aurora e abbiano scritto a lei e alla signora marden di incontrarsi in città si assenteranno per un mese o sei settimane e poiché l'aurora è attesa per mercoledì dovranno partire subito domani se saranno pronte per tempo mi consolo pensando che al loro ritorno io e agata non ci separeremo mai più voglio che tu faccia una cosa agata le ho detto quando siamo rimasti soli devi promettermi che se ti capitasse di incontrare la signorina penclosa qui o in città non le permetterai più di ipnotizzarti agata ha spalancato gli occhi ma come giusto l'altro giorno dicevi quanto fosse interessante tutto questo e quanto fossi determinato a concludere i tuoi esperimenti lo so ma ho cambiato idea da allora e non continuerai no ne sono molto lieta austin non immagini quanto sei pallido e sciupato ultimamente a trattenerci dall'andare a londra era proprio l'idea di abbandonarti in un momento in cui sei così a terra e ti sei comportato in modo tanto strano a volte soprattutto la sera in cui hai lasciato il povero professor prataldin a giocare col morto sono convinta che questi esperimenti siano molto dannosi per i tuoi nervi lo penso anch'io cara e anche per quelli della signorina penclosa hai saputo che è malata no ce l'ha detto la signorina wilson ieri sera ha parlato di febbre nervosa il professor wilson sarà di ritorno questa settimana e ovviamente sua moglie ha molto a cuore la guarigione della signorina penclosa visto il programma di esperimenti che il professore è impaziente di compiere la promessa di agata mi ha fatto piacere perché è già sufficiente che quella donna tenga tra le grinfie uno di noi d'altro canto l'indisposizione della signorina penclosa mi ha turbato perché sminuisce l'apparente vittoria di ieri sera ricordo quando disse che la malattia rappresenta un ostacolo ai suoi poteri deve essere per questo che ho saputo tenerle testa così facilmente molto bene stasera prenderò le stesse precauzioni e staremo a vedere il pensiero di quella donna mi suscita una paura infantile 10 aprile ieri sera è andato tutto bene è stato divertente vedere la faccia del giardiniere quando stamattina ho dovuto chiamarlo un'altra volta per farmi lanciare la chiave se questa cosa andrà avanti mi farò una reputazione tra i domestici ma il punto è che sono rimasto nella mia stanza senza la minima spinta ad andarmene sento di essere in procinto di liberarmi da questo vincolo assurdo o forse il potere di quella creatura risulta semplicemente sospeso in attesa del recupero delle forze posso solo pregare che vada tutto per il meglio le marden sono partite stamane e il sole primaverile sembra aver perso la sua brillantezza eppure è bellissimo mentre splende sui castagni verdi di fronte alle mie finestre e dona un tocco di allegria alle pesanti mura screziate di licheni dei vecchi college quanto è dolce la natura così benevola e confortante chi potrebbe immaginare che vi si annidino anche forze tanto abiette opportunità tanto esecrabili perché ovviamente mi rendo conto che questa cosa orribile che mi ha salito non è nulla né di soprannaturale né di preternaturale no questa donna è dotata di una facoltà naturale che la società ignora il fatto stesso che diminuisca parallenamenti all'energia corporea dimostra il suo totale assoggettamento alle leggi fisiche se ne avessi il tempo potrei esplorare la questione in profondità e mettere le mani sull'antidoto ma non puoi domare la tigre quando hai addosso i suoi artigli puoi solo dimenarti nel tentativo di sfuggirle quando mi guardo allo specchio con i miei occhi scuri e gli spiccati lineamenti spanici mi ritrovo a desiderare i segni di uno schizzo di vetriolo o un accesso di vaiolo l'uno o l'altro avrebbero potuto sottrarmi a questa calamità sono sorpreso a credere che avrò qualche problema stasera due sono i motivi che mi inducono a temerlo come prima cosa dopo aver incontrato per strada la signora wilson ho saputo che la signorina penclosa per quanto ancora debole si sente meglio nel profondo mi scopro a desiderare che quella malattia le fosse stata fatale come seconda cosa il professor wilson sarà di ritorno fra un giorno due e la sua presenza le sarebbe di impaccio le nostre sedute non mi spaventerebbero se fosse presente una terza persona per entrambe queste ragioni ho un brutto presentimento stasera e prenderò le solite precauzioni 10 aprile no grazie al cielo ieri sera è andato tutto bene proprio non ce l'avrei fatta ad affrontare un'altra volta il giardiniere dopo essermi chiuso dentro ho infilato la chiave sotto la porta e stamattina ho dovuto chiedere alla domestica di aprirmi ma è stata una precauzione del tutto inutile perché non ho provato il minimo impulso a uscire tre sere di fila in casa tra non molto le mie preoccupazioni saranno finite perché oggi o domani wilson sarà di ritorno devo informarlo dell'accaduto oppure no senz'altro non ricaverei la minima comprensione da parte sua mi reputerebbe un caso interessante da proporre come oggetto del suo prossimo intervento al convegno della psichical society dove valuterebbe solennemente la probabilità che io sia un bugiardo deliberato oppure un folle al primo stadio no non ricaverò alcun sostegno da wilson mi sento meravigliosamente bene e in forma credo di non aver mai fatto lezione con tanto brio quanto sarei felice se solo riuscissi ad allontanare quest'ombra dalla mia vita giovane benestante con un ruolo di primordine nella mia professione fidanzato con una ragazza bella e affascinante non ho tutto ciò che un uomo potrebbe desiderare ho un'unica preoccupazione ma che preoccupazione mezzanotte impazzirò si andrà a finire così impazzirò già non manca molto sento la testa che mi pulsa quando l'appoggio sulla mano bollente tremo da capo a piedi come un cavallo impaurito oh che nottata ho passato eppure ho anche qualche motivo di soddisfazione a rischio di diventare lo zimbello della mia domestica ho di nuovo fatto scivolare la chiave sotto la porta imprigionandomi per la notte poi dato che era troppo presto per dormire mi sono coricato vestito con un romanzo di diuma d'un tratto qualcosa mi ha afferrato mi ha afferrato trascinandomi giù dal letto non c'è altro modo per descrivere la forza soverchiante che sia impadronita di me ho tentato di afferrare la coperta di aggrapparmi ai mobili in preda alla frenesia credo di aver gridato era tutto inutile non c'era speranza dovevo andare non avevo via di scampo ho resistito solo all'inizio ma presto la forza è diventata travolgente ringrazio il cielo che nessuno abbia tentato di fermarmi perché non avrei saputo rispondere delle mie azioni la determinazione ad andarmene inoltre era accompagnata da una fredda e acuta consapevolezza di come avrei potuto farlo ho acceso una candela e mi sono inginocchiato davanti alla porta nel tentativo di raggiungere la chiave con la punta di una penna d'oca era troppo corta e l'ha allontanata ancora di più allora con fredda ostinazione ho estratto un tagliacarte dal cassetto e con quello sono riuscito a recuperarla ho aperto la porta sono entrato nello studio e dopo aver preso una mia fotografia nella scrivania e averci scritto qualcosa l'ho infilata nella tasca interna del cappotto e mi sono incamminato verso casa di wilson era tutto straordinariamente chiaro eppure disgiunto dal resto della mia vita come accade con gli avvenimenti di un sogno anche se particolarmente vivido ero in balia di una peculiare doppia coscienza c'era la volontà aliena predominante intenzionata a trascinarmi da colei che la controllava e la personalità più debole a essa contrapposta vale a dire la mia che tentava di sottrarsi a strattoni dall'impulso dominante come un terriere al guinzaglio rammento bene la consapevolezza di queste due forze contrastanti ma non ho alcuna memoria del tragitto né del mio ingresso in casa è vivissimo invece il ricordo dell'incontro con la signorina penclosa era sdraiata sul divano nel piccolo boudoir in cui si svolgevano abitualmente i nostri esperimenti con il capo appoggiato su una mano e parzialmente coperta da una pelle di tigre al mio ingresso mi ha rivolto uno sguardo colmo di attesa e alla luce della lampada il suo volto mi è apparso pallido e scarno con profonde occhiaie scure sorridendo mi ha indicato con la mano sinistra uno sgabello accanto a lei mentre io mi detesto al solo pensiero afferravo con foga quella mano portandomela appassionatamente alle labbra poi sedendomi sullo sgabello senza mai lasciarle la mano le ho donato la mia fotografia e ho cominciato a parlare 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 del mio amore per lei del dolore per la sua malattia della gioia per la sua guarigione del tormento per non poter essere al suo fianco anche un'unica sera lei tranquillamente sdraiata mi osservava con espressione imperiosa e un sorriso provocatore ricordo che una volta mi ha passato la mano tra i capelli come si fa con un cane e mi è piaciuta quella carezza mi ha dato un brivido ero il suo schiavo anima e corpo e gioivo della mia schiavitù poi è avvenuto il miracolo non ditemi che non esiste la provvidenza ero ormai sull'orlo della perdizione a un passo dal baratro quando è arrivata la salvezza una pura coincidenza no 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 è stata la mano della provvidenza trascinarmi indietro nell'universo esiste qualcosa di più potente di questo diavolo di donna con i suoi stratagemmi il solo pensiero è un toccasana per la mia anima guardandola ho notato un cambiamento in lei il viso era già pallido era diventato spettrale e le palpebre ricadevano pesanti sugli occhi spenti ma soprattutto il suo volto aveva sbarrito quell'aria di placida sicurezza il sorriso era scemato aveva la fronte corrugata era spaventata e titubante e mentre assistevo a quel mutamento il mio spirito lottava e si dibatteva nel disperato tentativo di sottrarsi alla presa da cui era vinto una presa ogni istante sempre meno salda austin ha mormorato ho voluto strafare non ero abbastanza forte non mi sono ancora rimessa dalla malattia ma non potevo più vivere senza vederti non te ne andrai austin vero è solo una debolezza temporanea concedimi soltanto cinque minuti e sarò di nuovo me stessa prendimi quella piccola caraffa sul tavolo davanti alla finestra ma io avevo riconquistato la mia anima con la perdita delle forze il suo influsso si era dissolto lasciandomi libero ed è subentrata l'aggressività un'aggressività feroce crudele almeno per una volta quella donna avrebbe conosciuto i veri sentimenti che nutrivo per lei il mio spirito era colmo di un odio tanto crudele quanto l'amore contro il quale si ribellava era la furia selvaggia e omicida dello schiavo in rivolta avrei potuto colpirla in faccia con la gruccia che teneva accanto a sé lei ha alzato le mani come per proteggersi da un colpo ed è andata a rannicchiarsi in un angolo del divano il brandy anzi imava il brandy dopo aver versato il contenuto della caraffa nel vaso di una pianta sulla finestra le ho strappato di mano la fotografia facendola in mille pezzi tu donna spreggevole se dovessi compiere il mio dovere verso la comunità non usciresti viva da qui ti amo austin ti amo gemeva sì e char sedler prima di me e quanti altri ancora charles sedler ha esclamato senza fiato lui ti ha parlato charles sedler charles sedler la voce filtrava da quelle labbra esangui come il sibilo di una serpe sì io ti conosco e anche gli altri ti conosceranno spudorata creatura eri al corrente della mia posizione eppure hai sfruttato i tuoi ignobili poteri per trascinarmi al tuo fianco potrai anche rifarlo ma almeno ricorderai di avermi sentito dire che amo la signorina marden con tutto il cuore e che per te provo solo odio e ripugnanza la tua vista mi provoca orrore e disgusto come il suono della tua voce provo ribrezzo al solo pensarti ecco cosa sento per te e se ti farà piacere trascinarmi ancora qui con i tuoi stratagemmi come hai fatto stasera immagino che sarà poco soddisfacente trasformare in innamorato un uomo che ti ha detto chiaramente cosa pensa di te potrai mettermi in bocca tutte le parole che vuoi ma non dimenticherai mai a quel punto mi sono interrotto perché la donna era svenuta con la testa rovesciata all'indietro non era riuscita a tollerare ciò che avevo da dirle è una bella soddisfazione sapere che vada come vada in futuro non potrà più fraintendere i miei reali sentimenti nei suoi confronti ma cosa accadrà in futuro quale sarà il suo prossimo passo non oso immaginarlo se potessi solo sperare di essere lasciato in pace ma se penso a cosa le ho detto non importa per una volta sono stato più forte di lei 11 aprile non ho praticamente dormito la notte scorsa e stamattina mi sono ritrovato così debole e febbricitante da dover chiedere a prat al dain di fare lezione al mio posto non ne ho mai mancata una prima d'ora mi sono alzato a mezzogiorno ma ho mal di testa le mani tremanti e i nervi in uno stato pietoso chi mi sarei dovuto aspettare stasera se non wilson è appena tornato da londra dove ha tenuto conferenze letto saggi organizzato incontri smascherato un medium condotto una serie di esperimenti sulla trasmissione del pensiero ricevuto il professor risce di parigi scrutato per ore dentro a un cristallo ottenuto qualche prova del trasferimento della materia attraverso la materia e tutto questo me l'ha riversato addosso in un sol colpo ma tu ha esclamato in conclusione non hai un bel aspetto e la signorina penclosa è alquanto prostrata oggi che mi dici degli esperimenti li ho abbandonati oh bella e perché è una materia pericolosa ed ecco comparire il suo grosso tacquino marrone questo sì che interessante su quali basi la definisci pericolosa esponimi i fatti in ordine cronologico per favore con date approssimative e nomi di testimoni attendibili con relativi indirizzi prima di tutto vorrei sapere se hai mai esaminato casi in cui il mesmerita abbia assunto il controllo del soggetto a scopi malvagi decine ha esclamato esultante la suggestione criminale non parlo di suggestione mi riferisco a un impulso improvviso proveniente da una persona lontana un impulso incontrollabile ossessione è la situazione più rara esistono soltanto otto casi cinque dei quali attestati con certezza non vorrei dire per l'esultanza non riusciva a parlare non voglio dire niente buonanotte devi scusarmi ma non sto molto bene stasera e così me ne sono sbarazzato mentre brandiva ancora matita e tacquino per quanto i miei guai siano difficili da sopportare preferisco tenerli per me piuttosto che permettere a wilson di mettermi in mostra come uno scherzo di natura in un circo ha perso di vista l'umanità per lui tutto rappresenta un caso un fenomeno morirò piuttosto di tornare a parlargli di questa faccenda 12 aprile ieri ho trascorso una giornata in santa pace e una notte senza incidenti la presenza di wilson è molto confortante cosa può fare quella donna adesso senz'altro dopo quel che le ho detto nutrirà nei miei confronti lo stesso disgusto che provo io verso di lei non può no non può desiderare un amante che l'ha insultata in quel modo no credo di essermi liberato del suo amore ma che ne è dell'odio non potrebbe usare quei suoi poteri per vendicarsi su via perché aver paura di un'ombra lei mi dimenticherà io la dimenticherò e tutto andrà per il meglio 13 aprile i miei nervi si sono quasi rimessi in sesto credo davvero di avere sconfitto quell'essere anche se ammetto di sentirmi piuttosto sulle spine si è ristabilita perché so che oggi pomeriggio era in carrozza sulla via principale con la signora wilson 14 aprile vorrei tanto poter staccare completamente il giorno di chiusura della sessione correrò subito da agata immagino che sia una meschina debolezza da parte mia ma quella donna mi dà terribilmente sui nervi l'ho rivista e le ho parlato stavo fumando una sigaretta nel mio studio subito dopo pranzo quando ho udito i passi di marri il domestico nel corridoio in quello stato di indolenza ero consapevole della presenza di una seconda persona alle sue spalle ma non mi affannavo troppo a ipotizzare di chi potesse trattarsi quando all'improvviso un lieve rumore mi ha buttato giù dalla sedia facendomi accapponare la pelle fino ad allora non mi ero mai soffermato ad analizzare il suono di una gruccia ma a giudicare dal fremito dei miei nervi doveva essere del tutto simile a quel colpo secco e legnoso che udivo alternarsi al tonfo smorzato dei passi un istante dopo il domestico l'aveva fatta entrare nessuno di noi due si è preoccupato di rispettare le solite convenzioni sociali sono rimasto semplicemente lì a fissarla con la sigaretta accesa mentre lei a sua volta mi osservava in silenzio davanti a quello sguardo ho ricordato il tentativo avanzato proprio in queste pagine di definire che tipo di espressione avessero i suoi occhi se furtiva o crudele ebbene oggi erano crudeli crudeli in un modo freddo e inesorabile allora si è decisa a dire sei della stessa opinione dell'ultima volta sono sempre stato di quell'opinione vediamo di intenderci professor gilroy ha detto con calma come avrai capito non sono un tipo con cui scherzare sei stato tu a propormi di partecipare a una serie di esperimenti sei stato tu a conquistarmi sei stato tu a dichiararti tu a portarmi una fotografia con una dedica amorosa e infine sei stato tu quella stessa sera a sentirti libero di insultarmi in modo così scandaloso rivolgendoti a me come nessun uomo aveva mai osato fare dimmi che quelle parole sono state frutto di un accesso di collera e io sono disposta a perdonarle e a dimenticarle non pensavi realmente ciò che hai detto austin vero non mi odi sul serio avrei potuto compatire quella donna deforme di fronte al bisogno d'amore affiorato all'improvviso in quello sguardo minaccioso ma ripensando a ciò che avevo passato il mio cuore si è fatto duro come la pietra sai perfettamente le ho risposto che qualsiasi parola d'amore sia uscita dalla mia bocca è stata pronunciata da te non da l'unica verità che sono mai stato in grado di dirti è quella che hai udito durante il nostro ultimo incontro ma certo qualcuno ti ha messo contro di me è stato lui ha esclamato picchiando la gruccia sul pavimento sai benissimo che in questo preciso istante potrei costringerti ad accucciarti ai miei piedi come un cagnolino non mi coglierai mai più in un momento di debolezza così da potermi insultare impunemente vada ciò che fai professor gilroy ti trovi in un'orribile posizione non hai ancora idea dell'influsso che posseggo su di te a quelle parole mi sono voltato con una scrollata di spalle bene ha aggiunto dopo un attimo di silenzio se disprezzi il mio amore vorrà dire che proverò con la paura adesso sorridi ma verrà il giorno in cui verrai da me invocando perdono sì con tutto il tuo orgoglio striscerai ai miei piedi maledicendo il giorno in cui hai scelto di trasformare la tua migliore amica nella tua più atroce nemica fai attenzione professor gilroy vedevo una mano bianca agitarsi in aria e un viso così sconvolto dalla collera da apparire disumano un istante dopo non c'era più e ho udito il suo passo zoppicante allontanarsi con un rapido ticchettio lungo il corridoio mi ha lasciato con un gran peso sul cuore però vaghi presagi di sventura gravano su di me tento inutilmente di persuadermi che le sue erano solo vane parole di rabbia è troppo chiaro il ricordo di quello sguardo inesorabile che fare o che fare non sono più padrone della mia anima da un momento all'altro questo disgustoso parassita può insinuarsi dentro di me e poi devo rivelare a qualcuno il mio terribile segreto devo farlo o impazzirò wilson è fuori discussione charles sedler mi capirebbe solo nei limiti della sua esperienza prataldane è un uomo equilibrato di assoluto buonsenso e dalle tante risorse andrò da lui gli racconterò tutto quanto voglia il cielo che sappia darmi un suggerimento ore 18 e 45 no è inutile non esiste essere umano in grado di aiutarmi devo vedermela da solo davanti a me si aprono due strade posso diventare l'amante di quella donna oppure sopportare le persecuzioni che può infliggermi anche se non accadrà nulla vivrò comunque in un infernale stato di angoscia ma può torturarmi farmi impazzire uccidermi non cederò mai e poi mai perché cosa c'è di peggio della perdita di agata e della consapevolezza di essere uno spergiuro indegno di chiamarsi gentiluomo prataldane è stato gentilissimo e ha ascoltato con molto garbo la mia storia ma davanti ai suoi tratti massicci al suo sguardo indolente e al pesante arredamento da cui era circondato nel suo studio non è stato facile spiegargli la ragione che mi aveva portato da lui tutto aveva un'aria così concreta così materiale in fondo cosa avrei detto io stesso se soltanto un mese fa un mio collega mi si fosse presentato con una storia di possessione demoniaca forse sarei stato anche meno paziente di fatto ha preso nota della mia dichiarazione si è informato su quanto te bevessi sulle mie ore di sonno su un eventuale sovraccarico di lavoro su sintomi come improvvise fitte alla testa incubi ronzine le orecchie lampi davanti agli occhi tutte domande che rimandavano alla convinzione che alla base del mio problema ci fosse una congestione cerebrale alla fine mi ha congedato con una marea di insulsaggini sull'attività all'aria aperta e sulla necessità di evitare l'eccitazione nervosa quanto alla sua prescrizione di cloralio e bromuro l'ho accartocciata per poi gettarla nella cunetta no non posso aspettarmi aiuto da nessuno se mi consultassi con qualcun altro potrebbero parlarne tra loro e io mi ritroverei in un manicomio non mi resta che prendere il coraggio a due mani e pregare che un uomo per bene non venga abbandonato 15 aprile è la primavera più gradevole a memoria d'uomo così verde così mite così bella è così forte il contrasto tra la natura e la mia anima straziata dal dubbio e dal terrore è stata una giornata priva di incidenti ma so di trovarmi sull'orlo dell'abisso ne sono consapevole eppure continuo con la solita vita l'unica nota positiva è che agata sta bene che è felice e al riparo da qualunque pericolo se questa creatura tenesse impugno entrambi cosa non potrebbe fare 16 aprile quella donna è geniale nell'infliggere i suoi tormenti sapendo quanto ami il mio lavoro e quanto siano apprezzate le mie lezioni ora mi attacca su quel fronte credo che finirò per perdere la cattedra ma lotterò fino in fondo non me la farò strappare senza combattere durante la lezione di stamattina non ho notato nulla di diverso salvo per un rapido stordimento un capogiro di un paio di minuti anzi mi sono complimentato con me stesso per aver reso l'argomento le funzioni dei globuli rossi a un tempo chiaro e interessante non mi aspettavo dunque che subito dopo la lezione uno studente venisse in laboratorio a dirsi confuso per la discrepanza tra le mie affermazioni e quelle dei libri di testo dal tacquino che mi ha mostrato risultava come a un certo punto della lezione avessi sostenuto eresie oltre modo scandalose e antiscientifiche ovviamente ho negato affermando che doveva avermi frainteso ma il confronto con gli appunti dei suoi compagni gli ha dato ragione dimostrando che avevo pronunciato davvero quelle dichiarazioni assurde è chiaro che giustificherò l'accaduto come frutto di un momento di aberrazione ma sono più che certo che sarà il primo di una serie manca solo un mese alla fine della sessione e prego di riuscire a tener duro fino ad allora 26 aprile sono trascorsi dieci giorni dall'ultima volta che ho avuto il coraggio di annotare qualcosa sul mio diario perché mettere nero su bianco la mia stessa umiliazione il mio svilimento avevo giurato di non riaprirlo mai più ma la forza dell'abitudine è grande ed eccomi qui a riprendere la cronaca delle mie orribili esperienze in uno spirito più o meno simile a quello del suicida che ha annotato gli effetti del veleno che lo stava uccidendo ebbene il disastro che avevo previsto c'è stato ed è avvenuto proprio ieri le autorità accademiche mi hanno sollevato dall'incarico hanno agito col massimo tatto spacciandolo per un provvedimento temporaneo volto ad alleviare gli effetti del super lavoro e a consentirmi di recuperare la salute tuttavia la cosa è fatta io non sono più il professor gilroy il laboratorio è ancora sotto la mia responsabilità ma non per molto temo il fatto è che le mie lezioni erano diventate l'oggetto di scherno dell'università affollate di studenti venuti ad assistere a quel che avrebbe detto o fatto l'eccentrico professore non posso entrare nei dettagli della mia umiliazione quella donna diabolica non c'è abisso di ridicolaggine o idiozia in cui non mi abbia spinto cominciavo la mia lezione in modo chiaro e corretto ma con la costante sensazione di un eclissi imminente al sopraggiungere dell'influsso mi ribellavo e con i pugni stretti e la fronte imperlata di sudore lottavo per sopraffarlo mentre gli studenti davanti ai miei contorcimenti e alle mie frasi sconnesse redevano a crepa pelle per le buffonate del loro professore poi quando aveva preso il controllo totale si manifestavano i fatti più vergognosi battute stupide auguri come se stessi proponendo un brindisi citazioni di ballate persino insulti rivolti a qualche studente un attimo dopo tornavo lucido e la mia lezione procedeva degnamente fino alla fine non c'è da stupirsi che la mia condotta fosse la favola del college né che il senato accademico sia stato costretto a prendere ufficialmente atto di un simile scandalo quella donna diabolica e l'aspetto più terribile di tutto questo è la mia solitudine eccomi seduto in un banale bovindo inglese affacciato su una banale strada inglese con i suoi omnibus sgargianti e i poliziotti che ciondolano mentre alle mie spalle aleggia un'ombra totalmente inconciliabile con questo luogo e questo tempo nella patria della conoscenza sono oppresso e torturato da una forza del tutto estranea alla scienza nessun magistrato mi ascolterebbe nessun giornale si occuperebbe del mio caso nessun medico crederebbe ai miei sintomi anche gli amici più stretti lo considererebbero un sintomo di squilibrio mentale ho perso ogni contatto con i miei simili oh quella donna diabolica stia attenta non spingermi troppo oltre quando un uomo non può contare sulla giustizia potrebbe decidere di farsi giustizia da sé ieri sera mi è venuta incontro sulla via principale credo sia stato un bene per lei che non ci trovassimo tra le siepi di una stradina di campagna mi ha chiesto con un sorriso gelido se avessi capito la lezione non mi sono degnato di risponderle sarà necessario un altro giro di vite ha detto attenta signora mia attenta l'ho già avuta la mia mercè una volta potrebbe capitare un'altra occasione 28 aprile la mia sospensione dall'incarico ha privato anche lei di uno strumento di disturbo e finalmente ho potuto godermi due giorni di tranquillità dopo tutto non c'è motivo di disperare da ogni parte vedo affluire manifestazioni di solidarietà e tutti concordano sul fatto che a intaccare i miei nervi siano state la dedizione alla scienza e alla complessità delle mie ricerche lo stesso consiglio di facoltà mi ha inviato un messaggio estremamente amichevole raccomandandomi di viaggiare all'estero ed esprimendo la sentita speranza di vedermi riassumere pienamente il mio ruolo entro l'avvio della sessione estiva nulla è più inghiero delle loro allusioni alla mia carriera e ai servizi resi all'università è solo nella disgrazia che si può mettere alla prova la stima altrui forse quell'essere si stancherà di tormentarmi e tutto tornerà a posto che dio lo voglia 29 aprile la nostra cittadina sonnacchiosa ha vissuto il suo piccolo evento di norma per noi il massimo del crimine consiste in uno studente scalmanato che rompe qualche lampione o si azzuffa con un poliziotto la notte scorsa invece si è verificato un tentativo di scasso nella filiale della banca d'inghilterra e adesso siamo tutti sotto sopra parkinson il direttore è un mio amico intimo e quando mi sono recato sul posto dopo colazione l'ho trovato alquanto agitato se anche i ladri avessero fatto irruzione nell'ufficio contabilità avrebbero dovuto ancora vedersela con le cassaforti dunque la difesa era nettamente superiore all'attacco quest'ultimo pertanto non pare essere stato poi così formidabile due delle finestre inferiori presentavano segni di scasso come se fossero state forzate con uno scalpello o un attrezzo simile comunque la polizia dovrebbe già avere a disposizione un buon indizio visto che il telaio era stato dipinto di verde soltanto il giorno prima e a giudicare dalle sbavature un po di colore deve essere finito sulle mani o sugli abiti del colpevole ore 16 e 30 quella maledetta tre volte maledetta non importa non vincerà certo che no oh ma è un demonio prima mi ha sottratto la cattedra e adesso vuole sottrarmi l'onore non c'è proprio nulla che possa fare nulla salvo ma per quanto mi trovi alle strette non posso pensare a quello circa un'ora fa sono andato in camera e all'improvviso mentre mi stavo spazzolando i capelli davanti allo specchio ho notato qualcosa di così doloroso e raggelante che mi sono seduto sul bordo del letto e ho cominciato a piangere non lo facevo da tanti anni ma dopo aver perso ogni coraggio non mi restava che singhiozzare e singhiozzare nell'impotenza della rabbia e del dolore la mia giacca da camera quella che indosso abitualmente dopo cena era appesa come sempre accanto al guardaroba con la manica destra incrostata dal polso fino al gomito di vernice verde era questo che intendeva dunque con un altro giro di vite prima ha fatto di me uno zimbello e adesso vuole etichettarmi come criminale questa volta le è andata male ma la prossima non oso pensarci né posso pensare ad agata e alla mia povera anziana madre vorrei vorrei esser morto sì è questo l'altro giro di vite e senza dubbio era proprio questo che intendeva quando mi disse che non avevo ancora idea di che potere avesse su di me stando alle sue affermazioni che ho riletto negli appunti della nostra conversazione il soggetto risulta cosciente o incosciente in base alla minore o maggiore intensità dell'influsso la notte scorsa ero incosciente avrei giurato di aver dormito profondamente nel mio letto senza nemmeno sognare eppure quelle macchie dimostrano che mi sono vestito sono uscito ho tentato di forzare le finestre della banca e infine sono tornato ci saranno testimoni è possibile che qualcuno mi abbia visto e mi abbia seguito fino a casa che inferno è diventata la mia vita non ho più pace nel riposo ma la mia pazienza si sta esaurendo ore 22 ho smacchiato la giacca con la trementina non credo che mi abbiano visto ho fatto quei segni cacciavite era tutto sporco di vernice e l'ho ripulito mi scoppia la testa ho preso 5 grani di antipirina se non fosse per agata ne avrei presi 50 e l'avrei fatta finita 3 maggio tre giorni di pace quel demonio gioca con me come il gatto col topo mi lascia andare solo per balzarmi addosso un'altra volta non ho mai tanta paura come quando è tutto tranquillo sono in una condizione fisica deplorevole singhiozzo incessante eptosi della palpebra sinistra ho saputo dalle marden che torneranno dopodomani non so se rallegrarmene o dispiacermi erano al sicuro a londra una volta qui potrebbero finire nella sventurata rete in cui mi sto dibattendo io inoltre devono essere informate non posso sposare agata sapendo di non essere responsabile delle mie azioni sì devo dirglielo anche a rischio di far finire tutto tra di noi stasera c'è il ballo dell'università e devo proprio andarci dio sa se sono mai stato meno in vena di feste ma non voglio che si dica che non sono nella condizione di presentarmi in pubblico farmi vedere al ballo e chiacchierare con qualcuno dei professori anziani servirà a convincerli che sarebbe ingiusto togliermi la cattedra ore 22 sono stato al ballo insieme a charles sedler ma sono tornato a casa prima di lui lo aspetterò alzato comunque perché in effetti in queste notti ho paura di andare a dormire è un tipo allegro pratico e una chiacchierata con lui servirà a distendermi i nervi nel complesso la serata è stata un grande successo ho parlato con persone influenti e credo di averle convinte che il mio posto non è ancora vacante anche quell'essere era presente non ballava ovviamente ma se ne stava seduta insieme alla signora wilson non mi ha mai tolto gli occhi di dosso in pratica sono l'ultima cosa che ha visto prima di uscire dalla sala a un certo punto trovandomi seduto lateralmente rispetto a lei ho notato che il suo sguardo era concentrato su qualcun altro si trattava di sedler che in quel momento stava ballando con la seconda delle sorelle tarston dalle espressioni che aveva direi che sedler è fortunato a non essere in suo potere come lo sono io senza saperlo la scampata bella mi pare di udire i suoi passi sulla strada ora scendo a farlo entrare sempre che 4 maggio perché mi sono interrotto in quel modo ieri sera alla fine non sono sceso da basso non che rammenti almeno d'altra parte però non rammento neppure di essere andato a letto stamattina ho una mano molto gonfia eppure non ricordo di essermi fatto male ieri per il resto mi sento molto meglio dopo la festa anche se non capisco perché non sono sceso a chiamare chars sedler pur avendone avuta ogni intenzione possibile che dio mio altro che se possibile non mi avrà trascinato in qualche altra diavoleria vado a chiederlo a sedler mezzogiorno siamo al punto critico ormai la mia vita non è più degna di essere vissuta ma se devo morire lei verrà con me non la lascerò qui a fare impazzire qualcun altro come ha fatto con me no ho raggiunto il limite della sopportazione mi ha reso l'uomo più disperato e pericoloso al mondo dio sa che non ho mai fatto male una mosca eppure se in questo istante potessi metterle le mani addosso quella donna non uscirebbe viva da questa stanza la vedrò oggi stesso perché sappia cosa deve aspettarsi da me quando sono andato da sedler con mia sorpresa l'ho trovato a letto al mio ingresso si è messo a sedere mostrandomi un viso raccapricciante diamine sedler cos'è successo ho esclamato ma intanto mi sentivo gelare da qualche settimana ho l'impressione che tu sia pazzo gilroy ha borbottato con le labbra tupe fatte adesso lo so con certezza e so anche che sei pericoloso se non mi importasse di creare uno scandalo al college saresti già in mano alla polizia vuoi dire voglio dire che ieri sera come ho aperto la porta ti sei avventato su di me mi hai preso a pugni in faccia gettandomi a terra mi hai riempito di calci al fianco e mi hai lasciato mezzo svenuto in strada è la tua stessa mano a tradirti ed eccola lì tutta gonfia e con occhietumide come dopo un colpo tremendo cosa potevo fare a costo di passare per pazzo dovevo dirgli tutto e così mi sono seduto accanto al letto e ho ripercorso l'intera vicenda sciorinando i miei guai con un tale fervore e con mani così tremanti che avrei convinto anche il più scettico degli uomini odia te e odia anche me ho esclamato e la scorsa notte si è vendicata di entrambi in un colpo solo mi ha visto andarmene dal ballo e deve aver visto anche te sapendo quanto ci avresti messo ad arrivare a casa le è bastato ricorrere alla sua malvagia influenza le ferite sul tuo volto non sono nulla in confronto a quelle della mia anima sedler era palesemente colpito dalla mia storia sì sì mi ha guardato mentre uscivo dalla stanza abborbottato ne è capace ma è possibile che ti abbia davvero ridotto così cosa intendi fare porre fine a questa situazione sono il culmine della disperazione oggi la metterò in guardia con le buone e la prossima volta sarà l'ultima non commettere imprudenze imprudenze l'unica imprudenza sarebbe aspettare un'altra ora detto questo sono tornato di corsa in camera mia ed eccomi alla vigilia di quello che potrebbe essere il momento cruciale della mia vita mi darò da fare immediatamente già ho riportato una vittoria perché ho condiviso almeno con una persona questa mostruosa esperienza e se le cose dovessero andare nel peggiore dei modi questo diario rimarrà come testimonianza di ciò che mi ha spinto ad agire sono andato da wilson e dopo essere stato accompagnato di sopra l'ho trovato seduto insieme alla signorina penclosa per mezz'ora ho dovuto sopportare la meticolosa descrizione della sua ultima ricerca sulla vera natura dei colpi uditi durante le sedute spiritiche mentre io e quell'essere sedevamo in silenzio fissandoci l'un l'altro attraverso la stanza ho letto un sinistro divertimento nel suo sguardo mentre lei deve aver colto odio e minaccia nel mio avevo quasi rinunciato alla possibilità di parlarle quando wilson è stato chiamato fuori dalla stanza lasciandoci soli per qualche istante allora professor gilroy o dovrei dire signor gilroy ha esordito con quel suo sorriso pungente come sta il suo amico charles seddler dopo il ballo tu demonio ho esclamato hai chiuso con i tuoi stratagemmi ne ho abbastanza stammi a sentire ho attraversato la stanza a passo deciso e ho cominciato a scuoterla bruscamente per una spalla giuro com'è vero il dio che se metterai in atto un'altra delle tue diavolerie su di me pagherai con la vita accada quel che accada pagherai con la vita ho raggiunto i limiti dell'umana sopportazione noi due non abbiamo ancora pareggiato i conti ha risposto con un impeto equiparabile al mio io posso provare amore odio e tu potendo scegliere hai disdegnato il primo adesso devi sperimentare il secondo servirà un po più del previsto per annientare il tuo spirito ma lo annienterò la signora marden è di ritorno domani mi pare e questo cos'ha a che vedere con te ho esclamato il solo fatto che tu osi pensare a lei è un sacrilegio se sapessi che vuoi farle del male a dispetto del suo atteggiamento sfrontato mi sono accorto che era spaventata aveva intuito la minaccia e ora si ritraeva da me la signorina marden è fortunata ad avere un paladino tanto coraggioso da minacciare addirittura una donna sola devo proprio congratularmi con lei se quelle parole erano acide il tono e l'atteggiamento risultavano ancora più caustici è inutile parlare sono venuto solo a dirti e lo dico solennemente che la prossima atrocità commessa nei miei confronti sarà anche l'ultima detto questo dopo aver udito i passi di wilson sulle scale sono uscito dalla stanza certo per quanto fatale e insidiosa possa apparire sta cominciando a rendersi conto di dovermi temere quanto io temo lei omicidio ha un suono orrendo ma non si parla di omicidio per una serpe o una tigre è bene che stia attenta 5 maggio sono andato a prendere agata e sua madre stazione alle 11 in punto lei è così raggiante così allegra così bella ed era immensamente felice di vedermi cosa ho fatto per meritare tanto amore le ho accompagnate a casa e abbiamo pranzato insieme in un solo istante la mia vita sembrava affrancata da tutti i problemi dice che sono pallido che sembro turbato malato e la cara figliola lo imputa alla solitudine e alle cure svogliate della governante prego che non venga mai a sapere la verità e che l'ombra se l'ombra deve essere getti nell'oscurità la mia esistenza lasciando la sua alla luce del sole sono appena tornato da casa loro sentendomi un uomo nuovo con lei al mio fianco credo di poter affrontare con audacia qualunque cosa la vita mi riservi ore 17 ora vediamo di essere precisi vediamo di narrare esattamente ciò che è accaduto a mente fresca sono in grado di descriverlo con esattezza anche se difficilmente verrà il momento in cui dimenticherò gli avvenimenti odierni dopo pranzo ero tornato da casa delle marden e stavo tagliando alcune sezioni microscopiche col mio microtomo congelante quando a un tratto ho perso conoscenza nel solito detestabile modo che di recente mi è diventato fin troppo familiare ripresi i sensi mi sono trovato seduto in una stanzetta ben diversa da quella in cui stavo lavorando era accogliente e luminosa con divani rivestiti di cinz tende colorate e un migliaio di oggettini in peltro appesi alla parete davanti a me ticchettava un piccolo orologio ornamentale con le lancette puntate sulle tre e mezzo sebbene fosse tutto piuttosto familiare mi sono guardato intorno semi stordito per un istante finché non ho notato una mia fotografia appoggiata sul pianoforte e dall'altro lato una della signora marden a quel punto ovviamente ho capito dove mi trovavo era il boudoir di agata ma come ci ero arrivato e che ci facevo lì mi sono sentito morire ero stato mandato laggiù con qualche missione diabolica e quella missione era stata compiuta sì senza dubbio altrimenti perché concedermi di riprendere coscienza che momento di tremenda agonia cosa avevo fatto disperato sono balzato in piedi e una bottiglietta di vetro mi è caduta dalle ginocchia sul tappeto era intatta e mi sono chinato a raccoglierla sopra c'era scritto acido solforico forte togliendo il tappo di vetro si è sprigionato un vapore denso e la stanza è stata pervasa da un odore acre asfissiante era una di quelle che tenevo nei miei alloggi per gli esperimenti chimici ma perché avevo portato un flacone di vetriolo nella stanza di agata non era con questo liquido denso e fetido che le donne gelose sfiguravano le loro rivali col cuore in gola ho esaminato la bottiglietta alla luce grazie a dio era piena non avevo ancora fatto nulla di male ma se agata fosse arrivata un minuto prima quell'infernale parassita dentro di me non le avrebbe forse gettato addosso quella roba la sola idea è intollerabile ma doveva essere quello il suo scopo perché l'avrei portato altrimenti al pensiero di cosa avrei potuto fare i miei nervi loguri hanno ceduto mi sono rimesso a sedere e ho cominciato a tremare spasmodicamente come un relitto umano mi sono ripreso solo dopo aver udito la voce di agata e il fruscio dei suoi abiti poi alzando la testa ho visto i suoi occhi azzurri che mi fissavano colmi di compassione e tenerezza dobbiamo portarti in campagna austin ha detto hai bisogno di riposo e tranquillità sembri in pessime condizioni oh non è niente ho risposto tentando di sorridere è stato solo un attimo di debolezza sto di nuovo bene ora mi dispiace di averti fatto aspettare poveretto devi essere rimasto qui almeno mezz'ora in salotto c'era il parroco e sapendo che non lo gradisci ho preferito che gene ti accompagnasse di sopra pensavo che non se ne andasse più grazie al cielo è rimasto grazie al cielo è rimasto ho esclamato in tono isterico insomma che ti succede austin mi ha domandato tenendomi per un braccio mentre mi alzavo barcollando dalla sedia perché sei contento che il parroco sia rimasto e cos'è quella bottiglietta che hai in mano niente ho esclamato infilandomela in tasca ma devo andare ho qualcosa importante da fare che aria severa austin non ti ho mai visto con un'espressione simile sei in collera sì sono in collera non con me vero no no mia cara non puoi capire ma non mi hai detto perché sei venuto sono venuto a chiederti se mi amerai per sempre indipendentemente dalle mie azioni o da qualunque ombra possa macchiare il mio nome saresti disposta a credermi e affidarti di me a dispetto delle più fosche apparenze sai bene che così austin sì lo so quel che faccio lo faccio per te non ho scelta non c'è altra via d'uscita tesoro mio l'ho baciata e sono uscito di corsa dalla stanza il tempo dell'esitazione era finito finché quell'essere avesse costituito una minaccia solo per i miei progetti e per il mio onore avrei ancora potuto dubitare sul da farsi ma se a trovarsi in pericolo era agata la mia innocente agata allora la strada si dipanava dritta davanti a me ero disarmato ma non aveva importanza a cosa sarebbero servite le armi quando sentivo ogni muscolo palpitare di furiosa energia ero talmente preso dalla mia missione da notare a malapena i volti conosciuti che incontravo lungo il mio frettoloso tragitto anche se ricordo di aver intravisto il professor wilson diretto con altrettanta fretta nella direzione opposta trafelato ma deciso ho raggiunto la casa e ho suonato il campanello mi ha aperto la porta una domestica pallida che è impallidita ancora di più dopo aver visto chi aveva davanti mi conduca immediatamente dalla signorina penclosa le ho detto signore ha risposto senza fiato la signorina penclosa è morta questo pomeriggio alle tre e mezzo